Ciao a tutti ragazzi qui sono T6 e benvenuti in questo nuovo episodio di ciò che Dexter Allora in questa puntata vi siamo arrivati qui Ricordate che tipo c'è mezz'ora da arrivare qui Non lo ricordate? Eh beh avete visto il video però Eh Ve lo scoperti eh Eh non vedate i video voi Allora in questa puntata vi siamo arrivati qui Adesso di qui dobbiamo un attimo tornare Eh diciamo in Nella nostra città Per il momento Senza morire in qualche modo Quindi eh Di qui in teoria dovrei scendere Dovrebbe esserci La parte iniziale Da quello che ricordo Vediamo un po' Mi sembra di qui Sì dovrebbe esserci Eh esatto Ok perfetto Aia Mi sono fatto un Wow Ho fatto una caduta leggera e mi sono fatto uno di tale Ragazzi c'è Una cosa assurda I died Ok Ottimo Vita Perfetto Eh ok Eh non mi ricordo dove è che devo andare adesso Allora questa qua Ah si da qua era Ok Tante che spariamo Adesso tu lì se Tipo c'è una cosa fighissima Che impari più avanti E tipo so che So già che sarà una figata ragazzi Ok Oh Bam Dead corpo ragazzi Questo corpo Non lo so Lo amo Lo amo troppo Ok Nel mentre abbiamo comprato le nostre armi E Eh Dovrebbe essere questa parte più o meno Che esco Sì Dovrebbe essere un po' più avanti Stattate che torniamo in città magari Che Siamo un po' melli Siamo un po' melli Va Ok Tante che uccidiamo si così Ok Ucciso Ok È lì è lì Uccito Perfetto Andiamo Uccidiamo di qua Magari facciamo prima Ok Perfetto Eccolo qui Ok Usciamo Qua va beh Se c'è qualcuno No Che non c'è nessuno Perfetto Dobbiamo andare un attimo Da Come si chiama Corn No Torn Sì da Torn Andiamo da Torn E mi avete dato un po' di spoiler Nel commento Se siete persone cattive Come ho detto Non ho mai finito del tutto Il 2 e il 3 L'ho giocato davvero poco Quindi Non Siete così cattivi E non lasciatemi Davvero Di spoiler Perché Se siete persone cattive In quel caso Allora qui abbiamo Una piccola moto Che useremo Per svolazzare via E Potrei Oddio Stavo facendo cose brutte Oddio Spara Jack Spara Dexter Ok Come dicevo Non lasciatemi Spoiler Per favore Almeno Cioè Vabbè Almeno Tentati spoiler Oddio Dobbiamo un attimo Andare Ah No Quello era Tipo una cosa diversa Ok Allora Giriamo E andiamo Da Torn Che è più importante Inizialmente Invece di andare Dalla Dalla parte Dove si mira Scusa Non l'ho fatta apposta E' detto Ulisse Perché non prendi Anche tipo Quei cosi Dei Degli amici Qua Questi che sparano Però ragazzi Quelli sono brutti E' detto Impara anche a guidare Perché nel terzo Sarà Tutto guida Cioè Non una grande parte Oh cristo Torretta Wow Parla il vostro barone Stai zitto Barone di merda No Ok Qui non si va più Ho sbagliato Sospetto nel settore 6 Woo Ok No problem Andiamo Ok Ok Torno Non ho bisogno di nostro aiuto Penso l'altro tizio Ho bisogno di nostro aiuto Quello che ci darà l'arma presto Ok Ucciso Ucciso Woo Ok Let's go Let's go Woo Opla Ragazzi Sto parlando a guidare Eh Un po' Un pochetto Giusto un po' Se no mi sparano magari Ok Oh merda Torretta 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 Woo Ok Giriamo Giriamo Ok Usciamo da sto posto Entriamo nella città Bella Ok Oh Proprio meno Dai ragazzi Sto andando a guidare Molto molto bene Mi piace sta cosa Ounque Oggi Oggi Sto facendo in modo di registrare Cioè sto registrando tardi Sto registrando in genere tardi Sto a quello che faccio Però non vorrei lasciarmi nemmeno un giorno Senza girare un deck Perché mi diverte un sacco Registrarlo E mi diverte vedere i vostri commenti Che mi piace avere un sacco Anche a voi Quindi Mi fa davvero molto piacere Qui c'è qualcosa che non abbiamo Per favore Iniziamo a salire Ok No Iniziamo a salire Di qua Ok Eh Salve amici Ok Non so Perché c'è sto lag Però vi prendete qualcosa Vai Woo Death lag Oddio Perché sto lag Ok Uh Ottimo Dai Dov'è che si scende Di qua dove scendere Ok Ah Prendete un secondo ragazzi Ho visto qualcosa C'è il bazar Ah è vero Dov'è che devo andare al bazar È vero Oh e dai Eh Sti mer Ah Ok Il bazar penso Non possiamo andarci Senza Che leviamo questi tizi Però noi ci andiamo comunque Non si va di qua Non si va di qua Ci va dall'altra parte Ok Abbiamo un attimo Giusto un po' di tizi Che ci vogliono ammazzare Ma questo non penso C'è un gran problema A noi Non per il momento Diciamo che Dovevamo andarci Senza tanti problemi Invece Ne abbiamo contato Di fare un parecchio Di problemi Ok No problem No problem Ok Ok Wow Andiamo Bazar 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 Andiamo Andiamo Veloce Dov'è? In mezzo al mondo Che non esiste Questo bazar Wow Ok Ok Giriamo Sono questi arrivati Sono questi arrivati Ragazzi dai Siamo pronti Siamo pronti Salve amici Io non ho fatto nulla Ok Non deve esserci nessuno Di qua Vediamo una pistola Ok Siamo fosti usciti Dal pericolo Ma dopo entriamo Qui dentro Salve Vengo in pace Più o meno Salve amica Come stai Oh No Un pennuto impagliato Tocca ancora la merce Il tuo pastro E dovrai usare Le dita dei piedi Per contare Ok No cosa mi spoglanta Salve amico Sono il grande peccarone Che cos'è che vuole Lei ha desiderato avere Un succo di frutta Una gioielleria Lo so Ha dei piedi sullo stomaco Ha peli sulla lingua Ha peli sul petto Ovunque Si 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 è lui Lui è quello Sta continuando a parlare Di mistici canali Di energia Maledizioni E le solite cose Uuuuh Sceme Scondatevi la versione completa Vi faccio un riassunto Perché mi state facendo Perdere tutta la siesta Onin Vuole che recuperiate Tre artefatti Dal tempio della montagna Del precarso Non due Non quattro Ma tre Usate il passaggio temporale A nord ovest Della città E tornate Con quei tre Oggetti Ok amico Ah Grazie Grazie Che ospitalità Eh ma Noi andiamo con lag Senza tranquilli Problemi Lui ci sono delle armi No hanno chiuso Hanno chiuso qua ragazzi Mi dispiace È stato bello È stato bello Bellissimo Però Qualcuno ha detto di no E quindi niente Noi andiamo Noi torniamo via Torniamo la nostra città Devo andare di qua Vero? Sì Poi Andrei qui Che giorno di qua Se fare Sta cosa Della missione Va C'è un sacco di gente Qua Sarà che Ho fatto il casino Prima Eh Probabilmente Beep Beep Ok Mi serverebbe un'auto O comunque Qualcuno Una moto Magari Ti potremmo di qua Ok 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 E non so se rubo sta macchina Un problema Attività sospetta in questo settore Non penso Ok Perfetto No problem Ok Sta zona è abbastanza strana Però poter usare questa parte Ok Mico Salve Devo girare Devo girare Perfetto Maddannia Che figata Ok Montagna Montagna Come ve lo vi è stato Stavolando tutti Perché io no Cos'è sta trollata Sì ragazzi Le voti ci sono tipo strane Quelle volte Che tipo Non hanno senso Scusa Scusa Guarda ragazzi Non sono accorti Non se ne sono accorti Che bella cosa Dall'altra parte Oddio Io ho fatto il giro del bazar Inutilmente Quindi Spiegami Eh Tipo fare il giro Abbiamo spiegato tipo una giornata Perché siamo Già tornati Al giorno Siamo all'alba Oh merdo Ho preso il tizio Che cavolo Ma sai che ti dico Ma va a cagare Prendiamo tutti sotto Ok Passaggio temporale Ah Stavolando la città Non l'ho vista Perfetto È nuova Ah però Me la ricordo C'è già giocato questa città Stavolando la città Oh Head lag qua ragazzi C'è un lag assurdo Quanto render Mi fa BAM Preso in pieno LARG BAM Oh Non lagare così tanto Perfetto ragazzi Non laga più Ok Ciao macchina È stato bello incontrarti Perfetto Let's go Vai 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 Apriti Apriti sesamo Sedano Quello che sia insomma Sei un sesamo Ok Portale temporale Precursor Portale BAM Portale Andiamo tipo Oh che figata Prendere il rampino No è troppo complicato Noi siamo più alla Non siamo la Jack and Dexter Cioè non siamo Siamo Jack and Dexter Non la città Oddio Questo portale Non mi ricordo Tempi precarso Ragazzi Precarsolo E dove si va di qua Ah che figata È sicuramente un più figo Sti cose di precarso Non è Ascensore Perfetto Ragazzi Vecchi tempi Vecchi tempi E ci può giù la gente Quasi pure Teste di metallo Di merda Ok Teste di metallo Assurde Molto fastidioso Devo dire Teste di metallo Everywhere Non so se imparerò Qualche nuova mosso In centro Portando testi di metallo A quel tizio Però ne ho un bel po' Quindi magari Buono Andatelo sapere nei commenti Perché non mi ricordo Se devo portarli in altro Oppure no Ok Giusto un paio di munizioni Ma se C'è comunque un buon punto C'è Oh merda Oh merda No No Ragazzi Da cosa sono tanto Checkpoint Non mi piace tantissimo Checkpoint Che hanno Nel senso Che tipo Dove andare All'altra parte Del mondo Io Non mi piace tantissimo Non mi piace tantissimo Come si cammina Almeno Ma il di quello Ok Ci andiamo giù Va Stupidi checkpoint Inutili Sparagli Sparagli quando sposta Lo scudo Eh Magari Magari Lo spostasse Eh ma Mi ha preso due volte Mi ha preso lo stronzo Ma di qui c'è qualcosa Di qua devo andare Tanto secondo Vediamo un attimo la mappa Non voglio sbagliarmi stavolta Perché poi l'altra volta Mi sono sbagliato comunque Ci sono un paio di luoghi In cui devo andare Inizialmente Eh Ah E' vero Tre cose per caso Sono un po' in giro Quindi magari Devo andare a tutti i posti Oh Cosa Cosa non cadere Perfetto Ok Un paio di munizioni Nel frattempo Di qua che c'è Niente Oh Marda Tolpiscino dello stomaco Oh Oh Marda Oh Oh Ok ho ucciso Ah ma tu sei semplice Da battere Stronzo di merda E poi che c'è Ah Come sono dito Disabilitati What Perché Vabbè Non so perché Sono si attivati Dimmi che c'è una vita qua Bruno Buono 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 Aia Ma dai No Non dimmi che lo faccio Poi dall'inizio Ti ammazzo Eh ma va a cagare Va però eh Lo dico chiaramente Va a cagare Oggi davvero Sto fatto il checkpoint Ragazzi Non lo so Ma a me È un curioso Il fatto che fa schifo Sti checkpoint Ditemi quello che volete Ma per me fa schifo Sti checkpoint Questa cosa Di dover scendere per forza Da questo punto Mi butto Per una vita Cioè Mi sono fatto metà Metà Cioè Metà minuto Sto tanto cadendo Scendendo A posto A posto Non c'è problema Qua Ho bisogno di vita Tanta vita In effetti Dimmi che c'è Dei munizioni No c'è munizioni Vita Vita mi serve Porca Non munizioni È morto Ok È difficile Mirarlo Oh Guarda Oh Oh Guarda Wow Oh Merda Amico Dai Mostrami sta pancia Di merda E muori Ah guai Ho già fatto Eh comunque Dovevo anche scappare Già Oh Beh Eh no È tornata adesso Ok È un bel problema Adesso Riuscire a scappare Da quel coso Eh ma Un po' di vita La recupero Vero Un po' problematica Questa cosa Ma dai Non riesco Manco a schivare Sì Quanto l'odio Questo checkpoint Ragazzi Quanto l'odio L'unica cosa che mi hanno fatto male Qua in jack 2 Speramente È il checkpoint Una delle cose Che io non farei mai Perché fa schifo Ah schifo Proprio Ma schifo di brutto fa Ah vabbè Vabbè Andiamo Poi qua Ancora Come si mira Vabbè So fermo Vai sparami Ma una cosa All'inizio Guardate Cioè All'inizio So fermo Ok Eh E' morto a caso E' morto a caso Stavolta Ok Vabbè Più o meno ho capito Che devo fare Vabbè Andiamo Andiamo Speriamo di faccia Stavolta Volevo prendere A meno un artefatto Prima di chiudere l'episodio Mi interessa Di riuscire tipo Di 18 milioni di minuti Ma non mi interessa davvero Oh Opla Opla Vai toretto Opla Oh Oh Morto Già Perfetto Nice Ok Bottone Perfetto Andiamo Precarso Voi si che siete Belle persone Più o meno Qualche volta Qualche volta Più o meno Riesce a minare Qualche A mirare Ho capito Come ti fotto Eh stronzo Ho capito Ho capito Ma questo crolla Ma vorrei dire nulla Ma secondo me Croll Oh Eh Ragazzi Che avevo detto Io Eh Eh Ma l'avevo detto E qua c'è qualcosa Ci deve essere Però Ah ok Perfetto Ok Adesso arriva Ok Prima ho preso Ho preso Secondo E il terzo pure Perfetto Andiamo su Opla Ale Giro del mondo Yeah Giro del mondo Yap 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 Adesso Una volta Sembra di cadere Che figa No No C'è un altro E chi l'ha visto Quello Ragazzi E chi l'ha visto Quello Oh mio dio Io pensavo Fasero 62 E poi BAM Caduto a terra BAM Cattiveria Ok ragazzi Questo è arrivato Alla fine Del meno del primo Ma Tutto questo Si può salire tranquillamente Cioè nel senso Che Non devo farmi tutto il giro Da capo Terzo secondo Qua scende Ok Almeno ho imparato Da Jack 1 Che devo fare Molta attenzione A queste cose Sono pericolosi davvero Ok Perfetto Ci abbiamo fatto Anche Quark Non è che questi Li sto uccidendo Preciamente Ragazzi Meno male Oh Hopla 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 Attaccate 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 Death damage Che fa sta arma Ragazzi Io non lo capisco Cioè è troppo P È troppo P Oh Testi in metallo Testi in metallo Testi in metallo Vai via Oh Ci siamo a 99 Che dobbiamo a 100 Magari E dopo li venderemo Se non sono certo Vai sparami Stronzo Vai Stronzo di merda Scherzavo Dicevo Sparami Ok Secondo me Qua si è attivato qualcosa Perfatti Ok Cioè Cioè C'è l'attivazione così Figo Vai Precarsur Non l'avevo Mentre mostrato così Di Precarsur L'altra volta Stronzi di merda Sì Sono insulti a run Ragazzi Perché ho Di Precarsur Eh dai Però Fammi salire Ok A posto Eh Ragazzi Stronzo di merda Vai via Ok Globi Precarsur Ovunque ragazzi Cioè Chi li vuole Mentre Non avrei capito Sta cosa Ma che ti serve Ok Checkpoint Checkpoint Prima roba per Carstur Sì più o meno Eh Mi sembra Te stesso La mia coda Che figata Che figata Un occhio Una lente Ok ragazzi Per questo episodio è tutto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao ciao Ehi tu Sì Dico proprio te Sei nuovo da queste parti Sì Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno di video di gameplay Quindi Che aspetti Vino a se verlo più da vicino Persone o animali o bambini Non sono stati sfruttati per la realizzazione di questo video Ciao